Nuovi scenari per l'IPAB Santo Nocete e conservatori riuniti di Acireale, che di recente ha varato un piano specifico per interventi di carattere sociale mirati a anziani e bambini. L'azione avviata dal presidente Paolo Battiato mira ad aprire ancora di più lente alla città. Abbiamo da poco approvato il bilancio preventivo in cui abbiamo inserito due importanti impegni per il futuro di quest'ente e per il futuro della città. In primo luogo abbiamo previsto la realizzazione di un workshop internazionale per la riprogettazione di tutti gli spazi di proprietà dell'IPAB, quindi uno studio per come riutilizzare al meglio tutti questi spazi ma nel contempo uno studio su come reinserirli nel contesto urbano della città, nel tessuto di una città che oggi quasi li disconosce. Il secondo impegno fondamentale per quest'ente è un impegno rivolto ai bambini più piccoli ed è la realizzazione di una nuova bambinopoli nel parco di proprietà dell'ente in Viale Regina Margherita.